Continua a Bari il ciclo di conferenze fare festival organizzate da Felice Laudadio in attesa del Bifest in programma nel capologo pugliese come ricorderete dal 23 al 30 gennaio prossimi. Questa mattina nella facoltà di lettere dell'università di Bari l'incontro con il maestro dei festival cinematografici internazionali, lo svizzero Moritz de Adeln per oltre 20 anni direttore del festival del cinema di Berlino, fondatore del festival di Locarno, Montreal e Venezia e oggi nostro gradito ospite. Ho dimenticato qualcosa? No, 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 ma ho fondato il festival di Gnon piuttosto, per andare a un dettaglio. Si, ho dimenticato una cosa, che parlo l'italiano perché sono cresciuto a Firenze. Ah beh, questa è una cosa molto importante. Mi sembra importante. Come è andata questa conversazione con i nostri giovani? Molto simpatica. Mi sembravano molto timidi perché mi avrei aspettato un discorso più aggressivo perché in fondo ci sono tante cose e anche tante riprove che si possono fare ai festival. Invece no. Credo, loro mi hanno detto dopo, c'è Tuni che hanno trovato molto interessante perché ovviamente sono tanti soggetti, Berlino sotto la guerra fredda, Venezia dove sono rimasti due anni, poi i documentari degli anni 70, insomma c'è materia da discutere più di un'ora. Certo, sicuramente l'approccio al cinema, al grande cinema è nuovo anche per i nostri giovani e tanto è l'impegno di Felice Laudadio e della Puglia Film Commission che lei ha avuto modo di apprezzare in questi giorni. E allora vorrei da lei un giudizio su quale passo per esempio deve fare la Puglia per diventare internazionale. Per la Puglia lo è già, soltanto io penso che bisognerebbe, è un suggerimento che ha fatto a Oscar Iaruzzi, presidente della Puglia Film Commission, forse di organizzare delle settimane di film girati in Puglia all'estero, di cercare di… Già hanno fatto delle iniziative che trovo veramente molto belle, come per esempio questa guida turistica che nello stesso tempo per i produttori dà la possibilità di sapere che cosa offre le Puglie per il cinema. Io devo dire che ho un po' un cuore in Puglia perché sono già stato due anni fa presidente della giuria a Lecce e quindi torno a Bari con piaceri e c'è un tale potenziale qui che meriterebbe ancora svalutarlo di più, però so che i responsabili hanno l'intenzione di farlo ma un passo dopo l'altro, ovviamente non si può fare tutto in un giorno. Certamente sì. Un'ultima domanda è sulla filosofia del viaggio che credo per lei resti importante anche nelle interpretazioni appunto del cinema, il viaggio come cinema e il viaggio come conoscenza anche del cinema. Il cinema come il linguaggio è parte di una cultura, quindi secondo me è molto importante poter visionare dei film anche nel paese dove sono stati fatti. Un film in fondo parla da sé in astratto, però si capisce meglio tutti i legami essendo proprio nel paese dove è stato creato. Io penso che conoscendo le Puglie per esempio ho forse una sensibilità superiore per certi film pugliesi. Si è conosciuto che ho fatto molto per scoprire il cinema cinese e devo dire che i lunghi viaggi che ho fatto in China mi hanno molto aiutato a capire, interpretare questi film. Ma il viaggio, il viaggio io direi comincia in Europa. Più i giovani viaggeranno, più si parleranno diverse lingue come io ho avuto la fortuna nella mia vita, più faremo insieme in Europa. Io la ringrazio per questa importante sollecitazione, la testimonianza è che lei continua a parlare ai giovani anche attraverso la televisione. Grazie per essere stato con noi e buona permanenza in Puglia e speriamo di rivederla presto.